Benvenuti nel mio canale. Cosa succederà nel nuovo episodio di Udutsu Zsevda? Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche. Ilmaz rapisce Alilibraim con il sostegno di Asie Leto. Asie annuncia di voler sostituire Erisvan dopo il suo ritiro. Ilmaz e altri sostengono Fikret. Asie lo aiuta a rapire Alilibraim in cambio del suo sostegno. Ilmaz ritiene che Alilibraim lavori per lo Stato. Interrogerà Alilibraim per dimostrarlo. Ma Alil non farà quello che vuole. Asie, invece, sperimenta finalmente la gioia di essere libero da Alilibraim. Alil progetta dove seppellire Ibrahim. Zeynep teme per la vita di Alilibraim. Chiede l'aiuto di Fikret. Alilibraim fuggirà da questo gioco di Ilmaz con l'aiuto di Fikret. Questa sarà la prima missione di Fikret. Quando Alil salverà Ibrahim, otterrà la fiducia e il sostegno delle altre famiglie importanti della città. In questo modo Asie dimostrerà a Fikret di essere un buon leader. I tuoi commenti e i tuoi mi piace sono molto preziosi per me. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare le notifiche. Arrivederci. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.